Ciao a tutti e bentornati nella rubrica di Tessilan Condivision. Siamo tornati e siamo tornati con tantissime novità. Vedrete che ci saranno tantissimi nuovi articoli, dei ritorni, dei piccoli cambiamenti. Non vi posso dire altro, quindi non vi rimane altro che seguirci sui nostri social, davvero seguiteci. Non perdiamoci in chiacchiere, allora sono passate alcune settimane ma non sono passate inosservate, quindi nella puntata di oggi abbiamo deciso di prendere le foto che hanno ottenuto più mi piace durante queste settimane e poi anche una che riguardasse un tutorial in particolare e una che riguardasse invece un tema dell'assistenza che ovviamente nelle varie settimane trascorse hanno riscosso maggior successo. Iniziamo subito con la prima. La prima foto di oggi risale alla settimana dal 13 al 19 luglio e colei che ha ottenuto più mi piace è Daniela Rossi in cui ci presenta nella sua foto due progetti o meglio due borse realizzate con il cordino Swan Slim. Lei ci ha raccontato che ha preso spunto da una borsa realizzata da Maria Grazia Dottore, quindi l'ha fatta tutto fare e che ha deciso insomma di realizzare questa borsa per dare un tocco un po' diverso a quelle che aveva sempre utilizzato fino ad allora e ha scelto due colorazioni diverse da quella originale realizzata da Maria Grazia. Infatti Daniela ha scelto il bianco perché il bianco ovviamente non può mai mancare durante il periodo estivo, lo so manca adesso e manca anche sul nostro sito ma verrà riassortito e poi ha scelto il cordino Swan Slim Fucsia perché è un colore che a lei piace tantissimo e che secondo lei si può abbinare su tutto e oltretutto con un cordino come questo risalta particolarmente anche la brillantezza che voleva dare alla borsa che ha realizzato. Le misure delle borse sono per quanto riguarda la bianca 56 di lunghezza e 32 di larghezza compresi i 24 centimetri dei manici e per realizzare questa borsa bianca le sono servita praticamente tutta la rocca che ha lavorato con l'uncinetto 4. La borsa fucsia invece che misura 56 di lunghezza, 40 di larghezza e 24 sempre manici ha utilizzato quasi tutta la rocca fucsia perché lavorandola con l'uncinetto 3 e mezzo le sono avanzati circa 30 grammi. Ha definito queste borse davvero molto capienti e resistenti e capiamo ovviamente il perché. Perché il cordino Swan Slim è un cordino realizzato in polipropilene. È davvero molto resistente, a differenza degli altri cordini Swan magari toglie quell'effetto plasticoso che potrebbero dare gli altri filati invece in poliestere. Oltretutto questo è il rocca e quindi permette una lavorazione davvero molto semplice perché insomma si tira tranquillamente molto semplicemente. Il polipropilene oltretutto che compone questo cordino è una componente che possiamo trovare davvero molte volte in giro che sia nei contenitori dello yogurt o comunque per alimenti. È una composizione che grazie al polimero che c'è all'interno del polipropilene consente di farsi attraverso insomma un meccanismo, attraverso una fusione, di realizzare questi cordini Swan Slim che sono perfetti anche per realizzare ad esempio dei punti nocciolina, quindi dei punti un po' più piccoli e un po' più particolari che meritano appunto un cordino molto sottile. Quindi detto questo bravissima Daniela e ottimo anche lo Swan Slim. Veniamo alla seconda foto. In questa settimana, vale a dire dal 20 al 26 luglio, il progetto che ha ottenuto più mi piace è quello di Caterina Musa che ha realizzato una maglia prendendo spunto da un tutorial della Fata Tutto Fare che le è piaciute in maniera particolare soprattutto per questo incrocio che aveva davanti. Lei ha utilizzato il colore Lilla Rame perché secondo lei con una pelle olivastra come la sua questo colore poteva mettere in risalto la sua carnagione e quindi poteva donarle in maniera particolare rispetto a tanti altri colori dell'Handy che abbiamo a disposizione sul nostro sito. È una maglia che lei ha lavorato con l'Handy come abbiamo detto e inizialmente con l'uncinetto numero 2, poi successivamente però ha utilizzato il due e mezzo e ci ha raccontato che per lei è stato molto più semplice e più scorrevole la lavorazione di questo capo. Oltretutto lo ha lavorato a due capi per far sì quindi che la trasparenza fosse ridotta davvero al minimo in modo tale da poter quindi indossare questa maglia senza dover per forza indossare qualcos'altro anche sotto. Per una taglia 44 scarsa come la sua ci ha detto che ha utilizzato due mezze rocche e con quell'avanzato invece ha realizzato qualcosa di molto simile, idea davvero carinissima anche per la sua bambina di 9 anni e non contenta ha detto che ha avanzato anche qualcos'altro e che ha pensato bene di binare con un filo di scozia in modo tale da poter realizzare una stola estiva. Quest'Handy davvero ci riserva tantissime sorprese quindi brava Caterina e oltretutto ci ha detto anche che oggi è il suo compleanno quindi tanti auguri da Tessilon Condivision Nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto invece troviamo un meritatissimo ritorno parliamo di Francesca Mondo. Devo dire che ogni volta che Francesca pubblica qualcosa siete sempre in tantissimi a cliccare like e capiamo perché perché è davvero insomma molto brava. In questa foto in particolare vediamo la riproduzione di una stola che Francesca ha realizzato in merito ad un'occasione un po' particolare e per farla ha utilizzato l'Handy. È un filato che le è piaciuto moltissimo che secondo lei si presta davvero molto bene alla realizzazione appunto di stole ma anche di bluse o capispalla e che oltretutto grazie alla vasta gamma di colori consente di farsi davvero di potersi insomma sbizzarrire. Ha utilizzato meno di una rocca per una stola come questa e ha utilizzato l'Handy e l'ha abbinato anche ad un altro filato come potrebbe essere ad esempio un filo di scozia quale l'Anastasia. Con una rocca lei ci ha detto che addirittura potrebbero essere realizzate fino a tre stole come quella che ha realizzato lei questo grazie all'alta metratura dell'Handy. Ha preso spunto da un tutorial dello scorso inverno dell'ha fatto tutto fare però dato che la lavorazione della catenella iniziale era particolarmente stretta rispetto al giro della parte superiore ha pensato bene di capovolgere il progetto in modo tale da far cadere la parte iniziale sulle spalle molto furba e poi ha chiuso il tutto con una spilla che però ha creato direttamente l'eco le sue mani con un semplice filo d'alluminio e qualche pietrina preziosa. Vi ricordiamo che comunque tutti i suoi progetti possono essere trovati anche nella sua pagina facebook le mille e una idea e noi facciamo nuovamente i complementi a Francesca mondo e ci rivedremo chissà magari al prossimo progetto. Nella settimana invece dal 3 al 9 agosto troviamo Loredana Campofranco che è quella che ha ottenuto più mi piace durante questa settimana realizzando la giacca Odette della Fatatutto Fare. Ci ha raccontato che ha utilizzato l'handy soprattutto nella variante bluet argento in quanto ci ha detto essere uno dei suoi colori preferiti e lo ha lavorato con l'uncinetto 2. Si è trovata molto bene ci ha detto che è stato molto facile e scorrevole nella lavorazione e oltretutto un punto che lei ha definito un po' antico di questa giacca Odette lavorato con questo filato ha fatto sì che il risultato fosse davvero molto fine ed elegante quasi paragonabile al pizzo un filato quindi davvero unico nel suo genere che vi ricordiamo che potete utilizzare da solo binandolo oppure anche utilizzandolo insieme ad altri fili di scozia quali la mandala, la dele piuttosto che la raya o in base ovviamente allo spessore che volete utilizzare quindi davvero vi consigliamo di provarlo perché siamo certi che vi colpirà Nella settimana invece di ferragosto quindi dal 10 al 16 agosto la foto che ha ottenuto più mi piace è quella di alexandra castelbuono che ha ripreso un vestito prodotto in un tutorial della fatta tuttofare per realizzarlo ha utilizzato eccolo qua le codonni in questa versione rossa che noi abbiamo simpaticamente definito paprika ci ha detto che è stato molto semplice realizzare questo vestito appunto ventaglio e che con il filato si è trovato davvero molto molto bene per una taglia come la sua vale a dire una 42 44 ha utilizzato circa 300 grammi di filato il tutto lavorato con uncinetto numero 5 il le codonni insomma un filato che conoscete benissimo è un 100 per cento cotone riciclato quindi derivato dagli scarti di tessuto 100 per cento cotone pretinto è un filato davvero perfetto perché perché potete realizzare capi freschi in estate e caldi in inverno e questo anche per rispondere ad una domanda che spesso ci ponete soprattutto in chat vale a dire un cotone da poter utilizzare in inverno che comunque possa essere molto caldo ecco le codonni è la soluzione insomma a questa domanda a questo problema se invece volete rimanere sempre attenti all'ambiente potete utilizzare anche un altro prodotto che tessiland vi offre che invece un lana in lana riciclato che è l'ecologic di cui abbiamo parlato qualche puntata fa insomma bravissima sandra abbiamo concluso la foto con tutti mi piace e vediamo adesso di cos'altro parleremo concluse tutte le foto tutti i progetti che hanno avuto più mi piace durante le settimane appena trascorse adesso parliamo invece di un progetto che riguarda un tutorial che ha riscontrato particolare successo in queste settimane e parliamo del progetto di maria grazia nazaro che ha ripreso il tutorial amber della fatatuttofare maria grazia ha realizzato praticamente allo stesso identico modo il vestito senza cambiare senza portare alcuna modifica utilizzando anche lo stesso filato quindi il visco king e nella stessa variante vale a dire il dominica per una taglia come la sua lei ha utilizzato circa quattro gomitoli e ci ha detto che è stato davvero molto semplice realizzare questo vestito che le è piaciuto molto perché è un vestito che mettere in risalto la figura femminile e oltretutto con questo filato è stato davvero molto semplice realizzarlo perché perché il visco king è un filato che ha una composizione che vi permette di avere una resa davvero ottima e anche una lavorazione molto scorrevole e semplice oltretutto grazie alla sua composizione quindi cotone viscosa e lino vi consente di far sì di avere quindi in mano un prodotto che possa essere fresco e leggero ma allo stesso tempo anche coprente e che vi consente di realizzare dei capi che seppur molto semplici dovuti magari o al punto o al taglio grazie alle sue sfumature di colore daranno comunque un tocco di originalità oltretutto so bene che il dominica come quello che ha utilizzato in questo caso maria grazia nazaro e il barbados non sono disponibili ma attivate il servizio avvisami quando è disponibile quindi inserite il vostro indirizzo mail perché tra pochissimo pochissimo proprio tornerà nuovamente disponibile sul nostro sito quindi occhio perché davvero ci sarà da divertirsi con questi meravigliosi visco king adesso invece veniamo ad un progetto che ci consente di trattare di una richiesta che spesso ci avete fatto nel nostro servizio di assistenza il progetto in questione è quello di elisa trapani non so se ricordate quella meravigliosa pochette il color lavanda immersa in quel tool viola ecco la borsetta appunto in questione quella di elisa che l'è stata commissionata da una sua amica le misure sono di 13 centimetri per 16 il tutto lavorato con un 100 3 e mezzo e per realizzare il punto canestro doppio per farla le è servita a meno di una rocca elisa ci ha raccontato che si è trovato davvero benissimo con il tie lurex e che oltretutto ha permesso di dare un sostegno e anche di far sì che questa pochette potesse essere anche molto capiente quindi l'ho adorato oltretutto non è molto duro è molto morbido nella lavorazione davvero insomma un ottimo filato e lavorato ovviamente una volta concluso lo ha inserito all'interno di questa meravigliosa clic clac bracelet come potete vedere davvero molto semplice perché non vi basta altro che inserire all'interno qui delle incanalature la pochette e poi fissarla facendola passare attraverso e fuori ed ecco qui che poi la vostra pochette sarà pronta per essere indossata ad operata e anche insomma ecco metterla così fa proprio anche da accessorio davvero multiuso tornando al discorso dell'assistenza molte volte ci chiedete magari un cordino che possa essere adatto per realizzare proprio borse di questo genere quindi piccoline però che allo stesso tempo possano essere capienti avere un grande sostegno e anche una gamma di colori che possa avere una continuità ecco allora il taylurex è sicuramente un filato adatto parliamo di un misto cotone misto viscosa da lavorare con uncinetto 3 4 del diametro di 1,8 mm proprio perché però composto da misto viscosa misto cotone non sempre possiamo garantire la sua gamma di colori e quindi possiamo offrirvi però una meravigliosa alternativa rimanendo sempre sul cordino tai italiano possiamo offrirvi il tai sublime lux in questo caso qui abbiamo poliestere e poliammide leggermente più spesso qui infatti abbiamo un diametro di 2 mm ma possiamo garantirvi una continuità assoluta una gamma di colori molto vasta e in esclusiva di tessiland sono sicuramente comunque due filati molto validi e quindi se volete realizzare dei meravigliosi punti luce da indossare sia il taylurex ma anche il tay sublime lux sono sicuramente i filati adatti a voi la puntata di oggi si conclude qui è stato un meraviglioso ritorno ed è stato bellissimo poter tornare a parlare nuovamente dei vostri progetti io vi ricordo qualora non l'aveste già fatto di iscrivervi sempre al nostro canale youtube tessiland e di seguirci sui nostri social facebook pinterest instagram e tik tok e mi raccomando seguiteci perché di novità in arrivo ce ne sono davvero tantissime dal punto di vista dei filati di altri articoli e non solo poi lo scoprirete insomma in seguito probabilmente già a partire dalla prossima settimana se avete bisogno di qualsiasi informazione in merito ai tutorial che avete visto oggi in merito ai progetti non dovete fare altro che commentare qui sotto il video oppure contattarci anche al nostro servizio di assistenza tutti i link dei prodotti che avete visto oggi potete trovarli direttamente qui sotto il video e che dire vi do appuntamento alla prossima puntata e ovviamente grazie sempre per averci seguito ciao ciao